Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto tappeti classico annodati a mano. Molto bello tappeto orientale, di lana di alta qualità. Per tutti i tappeti fatti a mano può tolleranze dimensionali del 2-3 si può verificare. Tappeti spesso corrompere attraverso la colorazione unica e decorare qualsiasi stanza. Pezzo unico di artigianato Materiale 100 lana, vergine Tipo di lavorazione Annodato a mano Nodi per metro quadrato 280.000 Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazoniti, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.